benvenuto alla nuova puntata di passione auto questa puntata è dedicata principalmente a un evento che si svolgeva ad ascoli domenica 24 ottobre ed è dedicato il titolo io dico astag rally anch'io a questo punto che cosa mi racconti siamo con marco per gallini presidente della picena non vedenti allora sì l'evento rally anch'io è un evento appunto pensato dalla nostra associazione per dare la possibilità ai nostri soci quindi a ragazzi non vedenti e povedenti ma anche allargandolo ad altre associazioni quindi ad altri tipi di disabilità fisiche o intellettive relazionali quindi dare la possibilità a questi ragazzi di fare di compiere dei giri su auto la corsa al fianco di piloti professionisti quindi con i piloti guideranno le macchine e i ragazzi di noi staremo a fianco e appunto per provare le emozioni che si vivono in una sola corsa quindi l'adrenalina l'ebbrezza la velocità e e tutto quello che che ne consegue insomma e quindi è un evento organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale si svolgerà innanzitutto presso il piazzale antistante lo stadio di ascoli a partire dalle 10 organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale che ha concesso anche il patrocinio e in collaborazione con la fattiva collaborazione da parte del della squadra corse del gruppo gabrielli motorsport dell'automobile club di ascoli e dell'automobile club italia quindi l'aci praticamente e quando nasce questa idea questa a questo punto diciamo bislacca ma fantastica idea nata non più di un mese e mezzo fa ecco più o meno quindi diciamo che con i tempi abbiamo avuto anche tempi abbastanza ristretti per per organizzare il tutto ci è venuto in mente l'abbiamo proposto all'amministrazione abbiamo proposto appunto al gruppo gabrielli motorsport e all'aci che ci hanno appoggiato subito immediatamente l'iniziativa e ci siamo messi al lavoro prima di tutto per trovare diciamo una location adatta e visto che purtroppo non c'è un vero e proprio circuito abbiamo diciamo così ripiegato sul piazzale dello stadio e poi per mettere su in piedi tutta diciamo l'organizzazione del dell'evento in sé ed abbiamo avuto devo dire una buona risposta da parte sia dei non vedenti ma anche di tante altre associazioni del territorio con con persone con disabilità di vario genere insomma è stata la reazione che avete avuto quando avete proposto sia al gruppo gabrielli che all'automobile club questa idea che che sensazione avete avuto a loro soprattutto per quanto riguarda al gruppo gabrielli e l'automobile club loro ovviamente non avevano mai fatto una cosa del genere quindi da una parte erano curiosi di capire un attimino come poteva essere fatta però dall'altra parte erano anche molto entusiasti perché appunto una cosa nuova innovativa e che può servire anche come diciamo così trampolino di lancio per poi se la cosa riesce bene per ripeterla in futuro magari con anche allargandola ancora di più insomma e invece la risposta dei ragazzi quando hanno sentito questa cosa di poter salire sopra una macchina da corsa qual è stata la sensazione avete sentito avete provato e vi hanno dimostrato in realtà poi ma la sensazione è stata è stata positiva nel senso che abbiamo avuto una buona risposta molto molto entusiasti perché comunque è una cosa nuova una cosa mai fatta almeno per noi e quindi c'è tanta curiosità ecco speriamo che insomma vada tutto bene però le premesse ci sono tutte quindi speriamo che insomma sia una bella giornata di sport e di integrazione insomma e a questo punto chiudiamo parlando un attimo della piccina non vedenti del torbol come va la stagione come è andata la stagione se ci sono rimpianti alla fine sì il torbol è lo sport che noi pratichiamo dal 2008 e che ovviamente continuiamo a praticare l'ultima stagione è la stagione 20-21 e abbiamo fatto la serie A purtroppo non è andata bene nel senso che siamo retrocessi siamo arrivati terzi ultimi per pochi punti insomma ci è sfuggita la salvezza quindi quest'anno giocheremo in serie B e con grande tranquillità insomma cercheremo di fare un bel campionato come sempre di divertirci e poi se è possibile insomma se saremo bravi cercheremo di riconquistare la serie A però per noi insomma quello che conta di più è il gruppo è divertirsi lo stare insieme e poi ovviamente quando si va in campo insomma si cerca sempre di dare il massimo per cercare di ottenere dei risultati Benissimo allora dandovi appuntamento tutti al piazzale dello stadio del Duca domenica 24 dalle 10 dalle 10 fino alle 18 mi pare per poter passare una giornata di sport e divertimento tutti insieme quindi una giornata di integrazione ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata grazie a tutti